Odiavo due cose, le sigarette e i cellulari. Le sigarette perché le fumava mia moglie. E cellulari perché, beh, non ci avevo mai capito niente. Forse anche con mia moglie. Ma entrambe le cose erano necessarie, credevo. Il cellulare lo usavo solo per telefonare a lei, per dirle cosa volevo per cena o a che ora sarei rientrato da lavoro. Mi scusi, e lei quando il cellulare è caduto a terra che cosa ha detto? Ecco, ho detto porca miseria. Come porca miseria? Io avrei tirato certe madonna. Non sono un tipo da madonna io. Ma non si può fare niente per il telefono, alla fine l'ho preso giusto da lei ieri. Guardi, allora, per incidenti di questo tipo la garanzia direi che non c'è proprio. Il massimo che posso fare, visto la sfiga che ha avuto, questo, un telefono sostitutivo. Io lo posso lasciare finché non avrò riparato il suo. Non sembra, ma funziona. Me l'hanno riportato qui qualche giorno fa. Va bene, e allora prendo questo. Grazie. Pronto. Angelo, devo parlarti. Ma no, ha sbagliato numero. Ma come, Angelo? No, le ripeto, ha sbagliato numero. Ma tu hai la voce di Angelo. Però non sono io. Ho capito, scusi. Ciao. 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 Questi sono stati raggi, che sapia. Fanno i bulletti, fanno. Vasconi. Che prevo ragazzo, Vasconi? Ok. Mauro! Ma che soneria è questa? Pronto. Angelo, è da stamani che ti cerco. Prego. Angelo, che succede? Ti sento strano. No, guardi perché non sono Angelo. Non fare lo stronzo, c'è qualche problema. Ma no, non c'è problema. Ho capito. Addio, Angelo. Ma no, porca miseria. Io, io non sono Angelo. Ma chi era? Ma non lo so, è già la seconda volta che mi chiamano. Oggi cercano un certo Angelo. Ma io non sono Angelo. Ma che telefono è quello, scusa? È il sostitutivo. Il mio si è rotto e me l'hanno dato oggi al centro assistenza. Rotto? Ma non avrei comprato uno nuovo ieri? Ma non dovrebbero... Azzerare il numero quando ti danno un cellulare sostitutivo. Ma che ne so. Ho lasciato i sogni Chiusi nell'armadio Che dentro a un cassetto Non ci stanno più È quello che voglio È vivermi meglio Quello che voglio È vivermi meglio È vivermi meglio È vivermi meglio Di così Di così È vivermi meglio 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 Angelo Oh Angelo finalmente Angelo amore mio dimmi che ci sei Angelo ti prego rispondi ti prego Sì Angelo Angelo hai idea di quanto vorrei che tu fossi qui? Sì Angelo, hai idea? Eh sì. Allora vediamoci subito, davanti all'hotel Centrale, come sempre. Sì. Centrale. Verdi. Centrale. Pronto Sandra, sei tu? Angelo, brutto figlio di p***a, lo sai che mia moglie sta contigo. Come ho detto, scusi? La vi, la vi salire con te stanoce, Llevava sempre il suo jacca negra, che ti passa? Ma guardi, ci deve essere un equivoco, perché io non sono Anno. Ti ha matto, figlio di p***a, ti ammazzerò, bastardo. La vi, la vi, la vi, la vi. Dimmi chi cazzo sei? Dov'è Angelo? Ho riconosciuto la suoneria, stronzo. Avanti? Dov'è? Avanti. Sandra, sono uscito per... Dov'è Angelo? Dov'è? Guardi, io non so di che cosa sta parlando. Rispondimi, dov'è Angelo? No, rispondimi... Senta, io adesso non posso proprio parlare. Dammi retta, dov'è Angelo? Gas, 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 gas! Ho, 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 ho! Cana, cana, ho, churo, le prelo, salopera! Gli temi e te l'esche, non so che chiederà. Bravo, devo pure, prego, cana, vera! Ho tolte come tu e prego, se fate chiederà. Gas, 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 gas! Forza, dimmi che cazzo sei. Perché ha il cellulare di Angelo? Non ci crederei. Dimmi perché hai risposto al suo cellulare. Devo strapparteli di bocca a queste parole? Senti, io lo so che non avrei dovuto rispondere. Però, come si fa a dire ha sbagliato numero a una donna che ti chiama alle due di notte, piangendo. Nemmeno uno come me poteva farlo. Dove fai? Potrebbe essere pericoloso. Pericoloso? Basta non fargli vedere che hai paura. Scappa, scappa! Gas, 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 gas! Allo, 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 eh! Ritabilità, lo, allo, 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 eh! Sex irrità, lo, allo, 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 eh! Ritabilità, lo, allo, 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 eh! Sex irrità! Pensi che ti abbiamo seminati? Forse sì. Ah, mi ha chiamato tuo marito oggi. Sa di noi. Eh, volevo dire di te e di Angelo. Non è mio marito, ho riconosciuto l'auto, è lo scagnozzo del moro. Pronto. Angelo, ti taglio lo cojone e te lo metto alla bocca! Brutto figlio di puttana! No, sei tu il figlio di puttana. Adesso sta zitto e ascolta, pezzo di merda. Se tu continui ancora a chiamare, io vengo lì e ti spacco il grugno. E poi io tua moglie me la scopo quando e dove dico io, se mi va. Che matto, bastardo! Bastardo! Porca miseria. Scusami, io di solito non uso questo linguaggio, però, eh, quando ci vuole, ci vuole. Mi pare in fretta, eh? Senti, ti va di dormire un paio d'ora a casa mia? Tanto mia moglie prende il tavolo e quando... No, l'auto è là dietro, grazie. Vuoi? Dai, sei buffo quando ti preoccupi per me. Ma dimmi te che mi doveva capitare. Sarà da quando avevo 12 anni che non curo più così. Però ti sarai divertito, no? Sì. Adesso che è finita, sì. Cazzo! Oh, porca miseria. Senti, senti, tu sta tranquilla. Adesso scendo io, gli faccio vedere il cellulare, gli spiego tutto e tutto si sistema. Perché così, no? Provaci. Mamma. Ecco, eh? Calma. Sta calmo. Ecco, è questo quello che vuole. Eccolo! No, 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 non sparare, non sparare. Guarda. Non mi sparare, prego. Prendo solo gli ordini, io nemmeno ti conosco. E' un giro, chiedi. Sì. Abbassa la testa, è un digitale. Abbassa la testa! Porta un messaggio al moro da parte mia. Digli che se ci riprova io lo ammazzo. Gli pianto una pallottola in un occhio. Hai capito? Sì, non mi ammazzare. Te la farà pagare. Tu non ti preoccupare. Me ne assumo io il rischio. Adesso alzati, stronzo. Va via! Ehi, Angelo, sei stato stupendo. Ho imparato ad abbassare la suoneria, a memorizzare i numeri, a controllare le chiamate perse. Ho imparato anche a spegnerlo, ma non lo faccio mai. Beh, tranne che in un'occasione. Quando squilla il cellulare tiro fuori la mia espressione da duro, quella che la fa impazzire. E rispondo con un lungo sì. Ho imparato anche a riconoscere il numero del venditore e a non rispondergli. Ancora ci provo a richiedere indietro il mio telefono. A richiedere indietro Ho, 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 ho Ho, 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 ho Ho, 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 ho